Attenzione! Si rammenta che vi è fatto aprire le porte esterne dei treni, e salire o scendere quando, non sono completamente fermi. Attenzione! Invitiamo i viaggiatori a non acquistare prodotti da venditori abusivi, ed a segnalare la loro presenza al personale F.S. e di polizia ferroviaria. Inoltre, solo ricorrendo ai canali ufficiali per l'acquisto dei biglietti del proprio treno, si eviterà di incorrere in tuffe. Il treno alta velocità Frecciarossa, 9802, di Trenitalia, delle ore 7.03, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma a Forlì, Bologna Centrale, Reggio Emilia V Medio Padana. I livelli executive e business sono in testa al treno. A Forlì, Bologna Centrale, Reggio Emilia V Medio Padana. A Forlì, Bologna Centrale, Reggio Emilia V Medio Padana. A Forlì, Bologna Centrale, Reggio Emilia V Medio Padana. A Forlì, Bologna Centrale, Reggio Emilia V Medio Padana. I livelli che dì sposte al treno di nuovo, e in tuffe. Grazie a tutti. 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 a tutti.